che bella questa prima della macchina come fa questa restare più avanti di me? eh, sì, vedo che viene da quello ah, non ha senso questa cosa, cioè la casa non lo sa fare, la casa è mia c'è gente? alla casa si? pieno pieno ragazzi qualcuno ha aperto a portare dentro? si, io, io, però non ho armi, ho una pistola verde io ho una certa tipologia prendo una finestra mia, io di una sono 12 team in quella casa a destra a sinistra è uscito dalla casa, uno è uscito dalla casa vabbè non entro un colpo con la R vediamo con la pistù non cato ma c'è uno accanto a me sopra il tetto sopra il tetto è knockado uno ah no ma da dove cazzo mi sbaglio oh il portatile c'è un'arma è morto ok scusami stavo in silenzio perché mi stava concentrato su sto tizio io ho un medikit se venite qua ho pure le bende però qualcuno mi deve aiutare a portare tutta sta roba io ho uno slot libero eh lo avete a prendere le bende non mi smagliate niente anzi mi sai mi tiro il medikit lo sai no 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 non c'ho spazio mi tiro il medikit e prendo questo sono 25 hp in più ho capito cioè meglio di niente sto veramente da merda ho usato le doppie pistole come se fossero dei pompa ma guarda che sono fortissimi le doppie pistole solo marza dice che fanno schifo mi fanno cacare a me ammetto le armi sono diverse le armi sono diverse non so come te lo devo far capire a me il gioco è diverso ho un'altra parte nostra di pot vai giorgio che oggi ti fico il cazzo in gola fino alla torreia ah mi piace un sacco lo sai vedo le diametre spavive le prendiamo il rift ci siete ma come marzo una cosa è il di pot un altro è il di pot Dove ti hanno sparato? Non mi hanno sparato Dove ti hanno sparato? Non mi hanno sparato Sì ti giuro, ah eccoli Sud, 150 Mi salgo sulla loro struttura Non so se c'è qualcuno sulla struttura Non c'è nessuno Ho l'impulsione di ora E' al lato pushalo quello L'ho davanti Un altro a sud Guarda è qua sotto E' morto e gli hanno sparato qualcun altro Capito? Sì ma chi ti può sparare? Non lo so chi gli ha sparato Cioè lo sapessi dove dire subito Ma però non è che ci avete per dire Provo a buttarla là Un colpo di pompa che ne uscite No 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 vieni qua Marzo da me E scappa via No non lo voglio così Guarda Io dico Marzo vedi da me ti dà le cose e scappa Ma non di pompa Fran Un cecchino Ho detto pompa Ho detto pompa Ho detto pompa Non capito un cazzo voi Un colpo di pompa Oh il cecchino quello pulito se vuoi Marzo Lo vio io? Ah io ce l'ho un cecchino Io c'ho quello pulito E tenete quello pulito Ci hanno ristato in testa No scu 44 22 Stando qua Dietri noi Stando sopra di te Vecchio portino Vecchio portino Quello dietro Oh ricamo quello lì è sopra il tip Fatto Ma Adesso fatti come hai fatto fa? Carro io ho la pozione da 50 Se avrei voglio la pozione da 50 Ho fatto pure l'altro Ah ha sparato a sud? Casetta No Un team Non ho scudi Vecchio Non ho scudi raga Qua ci sono le pozzette eh Le puoi prendere tu io i medikit? No fra C'è si ma Raga mi sparano pure da dietro Eh bro Io sto curando a sud il tipo Ah Arrivo Prendimi le pozzette io capito Ah ok Se no ti dati questo No 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 mi prendo le pozzette Tieni Tipo umano Decidi Mi devo prendere le pozzette Marzo Cioè lascio Ma è una Va bene fra Ah non lo so E l'ho visto per terra Non l'ho visto Davanti a te In piedi fermo Preso uno One shot Davanti Davanti Ehm Come ci vuoi andare? Ah ok Il tutto è 62 63 22 bianco Raga qua Vattuto uno Marzo ti prego il chug lasciamolo Prendi questa Prendi questa che ti serve Ti ho lasciato un medikit dietro No no mi prendo il chug Mi prendo il chug Marzo ti prego salto Ok Perché mi tratti così male? Non ci sto trattando male Ok meglio Sto rompendo i coglioni a due persone Che mi tirano i laser Perché non potranno farlo No le granate Vabbè Vabbè Noccato uno Merda Poi sono cedini C'è l'occhio sinistro che sta piangendo No 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 Sono andato con una pedana su un'altra pedana E rendo questa pedana Di quelle torte Veloce ancora Vabbè Leccami le palle Ma no Passa quel tipo Oh la la Oh sono due team Uno di 8 Easy Easy E uno Gli sono andato in uno scope nella faccia E infatti vedi Ello 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 Wey Nooo L'ho portato io What's going on? Tutto a posto? Questo mi ha fatto un po' male dentro Power Perchè? Perchè L'ho colpito tre volte E me ne ho uscito così E gli sono volato in testa da un chilometro Ma chi è che gli ha sparato un razzo e mi ha fatto cadere? No io il razzo l'ho tirato a sinistra Ah Contro uno Ah quindi si fanno i trickshot Regà me l'hai visto Margeo ha fatto la la Ah cosa avevi detto Margeo quando hai fatto quella cosa? Cosa? Che cosa avevi detto quando hai messo la la pedana che sto schiattato a ride? Bugs Bunny Si mi hai detto qualcosa e ti ho visto volare E' stata una scena bellissima 1v8 Easy Non lo so più te Hai detto una cosa stava settimane da ride Ok ragazzone Che è Gio? Vuoi imparare ha fatto la tripla scala? Ai mici di Ah si ha fatto la tripla protezione? No Si Si Tieni Aspetta tieni Dov'è che sta sto coglione di merda? Si E' nascosto sarà forse Di andarti via dal bagno fratello Ancora quella protezione resiste un lanciarazzi? Cosa? Quella è la protezione? No Ah si solo il metallo resiste a un colpo lanciarazzi Eccolo Ok Dov'è che sta? Davanti a me a ovest Ragazzi mi vado Mi suicido eh Aspetta aspetta Gli trovo la porta aspetta Di qua Gli trovo qua Ah si sta facendo fare Guarda sta piangendo Sta piangendo Sta piangendo Mannaccia Dai ho fatto la Il 360 a Long Range Non l'ha preso Ma non sto Eccolo Mannaccia Ti giuro Oh Oh Wow Con headshot Let's get it Oh